oggi qua buonasera a tutti buongiorno a tutti ben svegliati e ben ritrovati a tutti sono un po rapprendato se non mi vedete in live è per quello supportare probabilmente compreso un po con le bombe comunque iscrivetevi al canale lasciate un bel pollicione in su se volete supportare il canale con il codice creatore asset sport andiamo a vedere lo shop di oggi 13 novembre alla bundle ombre di strada la ruta non doveva esserci la ruta no quindi anche oggi questi qua te li abbiamo tutti in possesso vero come il 2002 la volesse acquistare con dorso piccone e deltaplano ovviamente 2002 molto bello come skin e tutto c'è adeline carina col suo dorso 1200 prima marze eccoli qua non tracendo di ma non è senza volante ci facendo di mark quanti esperto ricognitore 1200 perché questa è nella stagione 1 molto raro prossimo ma estremila la sua radio rosso decorativo 1200 di barca scala con il suo teschio con il dorso la sacca 1200 di barca così diamo da doppia spinta multicolore a solo di tamburo 500 di barca poi confuso è un po' confusa la signorina l'ho idolo 200 di barca poi ci sono i bundle degli giorni scorsi di questo non sapete che lo vediamo dark way x alien per i play tutto il resto io vi saluto vado a dormire è l'una e tre minuti in questo momento dunque lo shop a breve lo carico subito vi ringrazio ringrazio un bel pollicione al video e iscrivetevi al canale e alla prossima ciao